Ben ritrovati tutti amici di Rubrica Rosso Nera, buona domenica 31 gennaio, parliamo di Diogo Dalot. Come vedete nell'immagine il Milan ha deciso il suo futuro. E sicuramente il Milan, dopo attente valutazioni, proverà a trattenere il giocatore portoghese, il giovane laterale portoghese che è stato schierato varie volte questa stagione da Stefano Pioli. È un giocatore di prospettiva, ricordiamo tutti che è un classe 99, è di proprietà del Manchester United e quest'anno lo United lo ha ceduto, visto i tanti laterali presenti in rosa. E secondo quanto riporta l'autorevole quotidiano inglese The Sun, il Milan avrebbe già manifestato la voglia ai dirigenti dello United per riscattare il giovane terzino portoghese. E i rossoneri in questo momento, secondo sempre l'articolo del The Sun, sarebbero disposti a offrire circa 17 milioni di euro più bonus per questo ragazzo. Perché questa decisione? Intanto state fatte attente valutazioni da parte dei dirigenti rossoneri che hanno potuto per questi primi sei mesi vederlo all'opera. Un ragazzo intanto un grande professionista, un giocatore di grande qualità, ma soprattutto quello che colpisce la dirigenza rossonera, la sua capacità di adattamento alle diverse fasce, sia zona destra, quindi laterale destro, e zona sinistra, laterale sinistro. È un giocatore che sta crescendo molto, è sempre stato molto abile a livello offensivo perché ha un buon piede e sta migliorando grazie al campionato italiano, grazie allo staff tecnico, grazie a Stefano Pioli, nella fase difensiva. E quindi Milan avrebbe, vista l'età e vista anche l'ottima alternanza con Calabria, deciso di riscattare, deciso di provare a riscattare questo giocatore. Lo United per il momento non ha ancora risposto, sempre quanto riferisce, il Dessa non ha ancora risposto all'offerta del Milan, un'offerta concreta di 17 milioni più bonus. C'è da dire anche una cosa, che il Milan dopo la partenza di Andrea Conti direzione Parma, il Milan sicuramente proverà a riscattarlo e se non dovesse riuscirci comunque interverrà sul lato destro, perché il Milan in questo momento ha Calabria, ha sì Calulu, ma Calulu il Milan secondo le nostre indiscrezioni proverà sempre di più a mantenerlo, a migliorarlo, a farlo crescere come difensore centrale. Quindi un terzino che si possa alternare con Davide Calabria e ci auguriamo nelle prossime stagioni di giocare tante partite, perché vorrebbe dire giocare stabilmente nelle Coppe Europee, il Milan ha bisogno di un terzino, di un terzino di qualità e perché no, perché non puntare su Dalò che si è integrato molto bene nel gruppo, ha offerto grandi prestazioni con il Milan, gioca sia destra che sinistra, goda della stima dei compagni e dello staff tecnico e quindi direi che l'acquisto di Diogo Dalò potrebbe essere un acquisto davvero interessante ed importante. Il Milan comunque ha già deciso, vuole riscattare il giovane portoghese. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.